Oggi, 17 novembre 2020, avrà luogo la consegna delle Aquile per il conseguimento del brevetto di pilota d'aeroplano e della contestuale consegna dei gradi da sergente pilota di complemento agli allievi del 126esimo corso AUPC. Dieci giovani allievi ufficiali, al termine di un'ardua selezione, si apprestano a compiere il primo passo lungo e difficile che li condurrà a diventare pilota militare. La cerimonia odierna sarà presenziata dal comandante delle scuole dell'Aeronautica Militare Terza Regione Aerea, generale di squadra aerea Aurelio Colagrande. Fa il suo ingresso in teatro il comandante delle scuole dell'Aeronautica Militare Terza Regione Aerea, generale di squadra aerea Aurelio Colagrande, accompagnato dal comandante dell'Accademia Aeronautica, generale di brigata aerea Paolo Tarantino. A inizio la cerimonia di consegna delle Aquile e dei gradi al 126esimo corso allievi ufficiali piloti di complemento. Prende la parola il comandante dell'Accademia Aeronautica, generale di brigata aerea Paolo Tarantino. Carissimo comandante, grazie per essere qui oggi in questa cerimonia particolarmente sentita in Accademia. In buona parte per il significato stesso di questa cerimonia, quindi la consegna dei gradi e delle Aquile relative al raggiungimento del brevetto di pilota dell'Aeroplano dei ragazzi del 126esimo AOPC e in parte anche perché si svolge in un contesto così particolare come quello che stiamo vivendo da qualche periodo qui in Accademia a causa della pandemia. Consentimi di salutare anche il colonnello Grassi, il comandante del settantesimo che veramente ci ha fatto un regalo e suggella il rapporto che è instaurato in tutto il comando scuole. Permettemi questo, Aurelio, tra tutti i comandanti improntato veramente a un rapporto sinergico, di stima reciproca e di assoluta collaborazione. Saluto tutti i frequentatori qui presenti e i gentili ospiti collegati per la differita che andrà su YouTube. Come dicevo siamo qui oggi a celebrare questa cerimonia, una cerimonia che prevede la consegna dei gradi ai frequentatori del 126esimo AOPC così come le tanto agoniate aquile che vengono appunto rilasciate a valle del corso che è stato svolto a Latina. È un momento significativo che occorre contestualizzare. È un momento che deve farci vivere il giusto orgoglio, deve farvi vivere il giusto orgoglio per quello che siete riusciti a fare fino adesso, ma è un momento anche che deve necessariamente essere immediatamente seguito da una riflessione circa il vostro effettivo collocamento nell'economia di una Forza Armata così operativa e variegata. La vostra figura di ufficiali di complemento è una figura fondamentale perché voi andrete a costituire la continuità all'interno dei reparti della Forza Armata. Una continuità imprescindibile perché il commitment operativo al quale sono sottoposti i reparti in questo periodo, la turnazione, l'esiguo numero di piloti richiede una spina dorsale particolarmente preparata, efficiente, professionale. Questa spina dorsale è rappresentata dal personale di complemento. Ora, da qui al momento in cui rappresenterete effettivamente questa continuità e questa capacità della Forza Armata, c'è probabilmente di mezzo un oceano. Ora, questo oceano può essere liscio come l'olio, avere la forma di un lago, essere accarezzato da venti leggeri, oppure può essere particolarmente tempestoso, pieno di temporali e di onde particolarmente alte. L'oceano sereno è determinato dalla vostra professionalità, dalla vostra trasparenza, dalla vostra passione, dalla vostra dedizione. Mentre invece l'oceano turbolento è normalmente causato dal compiacimento per aver raggiunto questo risultato, dal riflettere sul fatto che, visto che siete arrivati a questo punto, quello che succede dopo possa essere soltanto qualcosa che vi deve essere garantito. Sono sicuro che tutti voi sceglierete di navigare nel primo dei due oceani. Con il grado di sergente, ma soprattutto col brevetto di pilota d'aeroplano, noi vi abbiamo dato un'imbarcazione che è sicura per attraversare l'oceano. È un'imbarcazione che dice che voi avete le competenze per poter arrivare a destinazione e raggiungere queste capacità. sta alla vostra intelligenza, alla vostra preparazione, alla vostra professionalità scegliere in quale mare navigare per arrivare il prima possibile e soprattutto nella maniera più profonda e capace possibile a destinazione. Tra qualche giorno inizieremo le procedure rivolte a definire e ufficializzare il nome del vostro corso. È sicuramente una procedura più veloce e meno strutturata di quello che c'è dietro il nome del corso, per esempio di un corso regolare dell'Accademia. Ma avendo avuto modo di verificare la distribuzione del vostro corso e vedendo come i risultati che avete raggiunto fino a questo momento vi posizionano su una scala abbastanza ampia di risultati, allora faccio appello alla vostra unità e al vostro spirito di corso, esortandovi a lavorare sin d'ora per aiutare chi è più indietro di voi e fare in modo che tutto il corso si protenda verso risultati sempre migliori e si compatti verso l'eccellenza. voi avete la fortuna sfortuna di essere stati incorporati in un momento particolare e dallo studio delle dinamiche di gruppo si percepisce chiaramente che quando un gruppo di soggetti viene posto sotto pressione le dinamiche interpersonali vengono cementate e soprattutto accelerate. Allora sfruttate questo momento difficile per cementare i rapporti tra di voi, per aiutarvi a vicenda, per arrivare a destinazione tutti insieme. Vi aspetterà una forza armata incredibile dal livello tecnologico quasi inimmaginabile fino a poco tempo fa, una forza armata fatta di assetti allo stato dell'arte indipendentemente dal reparto o dalla linea che avrete la fortuna di raggiungere. Vi terremo qui ancora per poco i primi mesi dell'anno prossimo e previsto che lasciate l'Accademia. Vivete questo periodo che vi resta da passare in questo istituto cercando di lavorare soprattutto sui vostri rapporti, non soltanto sul numero e sulle nozioni che metteremo a vostra disposizione ma anche sull'uscire come 126esimo corso a UPC e non come dieci singole entità. Da parte nostra c'è il massimo del supporto e il più affettuoso dell'in bocca al lupo. Prende ora la parola il comandante delle scuole dell'Aeronautica Militare Terza Regione Aerea, generale di squadra aerea Aurelio Colagrande. Buongiorno a tutti. Permettetemi dire innanzitutto che sono estremamente felice di essere qui questa mattina perché la cerimonia ovviamente che andremo più tardi a eseguire è assolutamente importante seppure non nelle forme e molto più soglia di quello che saremo di solito abituati a fare. Però la giornata per voi ragazzi è talmente importante che è giusto celebrarla nel migliore dei modi possibili che ci consente oggi la situazione epidemiologica in atto nel Paese e nelle Forze Armate. Desidero rivolgere un caloroso saluto al personale militare civile dell'Accademia e a voi giovani ufficiali, aspiranti e allievi presenti oggi. Desidero rivolgere inoltre un affettuoso saluto anche ai genitori, amici e parenti degli allievi qui presenti che sicuramente con grande orgoglio e non senza un pizzico di emozione ci seguono sui canali web dell'Aeronautica Militare per essere vicini, anche se solo ovviamente virtualmente, a voi ragazzi in un momento così importante della vostra vita di cittadini, di militari e di piloti. La cerimonia di oggi è certamente un evento importante per l'Accademia ma riveste un particolare significato ovviamente per voi giovani allievi ufficiali piloti di complemento del 126esimo corso. Ragazzi oggi siamo qui per darvi atto che l'impegno che avete sostenuto è stato esemplare. La vostra carica e motivazione vi ha portati finora a ben figurare durante la complessa attività di formazione e di addestramento. Il traguardo che avete appena raggiunto ovviamente non è stato facile ed è stato reso ancora più duro dalle difficoltà legate alla nota emergenza sanitaria che ha colpito l'intera comunità nazionale ed internazionale. A voi è richiesto notevole impegno, studio, determinazione e tanto sacrificio, ma a tempo stesso immagino sia stato un periodo avvincente e i risultati dimostrano che ci sono tutte le carte in regola per riuscire a distinguersi nelle future sfide che vi attendono. Ricordate che il traguardo e l'aquila che indosserete non sono soltanto dei simboli dorati ma rappresentano una scelta di vita che accomuna tutti voi, in cui l'entusiasmo, la passione per il volo, la lealtà, l'onestà, l'etica, l'altruismo, la disciplina, lo spirito del sacrificio e il senso del dovere sono valori che vi dovranno accompagnare e contraddistinguere per tutto il resto della vostra esistenza. Ora io non voglio assolutamente spaventarvi ma sappiate che l'importante traguardo che oggi avete conseguito non è che l'inizio di un percorso probabilmente ancora più arduo. Davanti a voi avete ulteriori esami, il conseguimento della combat readiness, il conseguimento del pronto impiego per poter essere pienamente operativi e far parte a pieno titolo della nostra grande famiglia. Però oggi avete dimostrato di avere la grinta, la determinazione e il coraggio che sono necessari per arrivare a conseguire e rendere tangibile il vostro sogno. Oggi possono essere altrettanto orgogliosi di voi, i vostri insegnanti, i vostri istruttori, il personale del quadro permanente dell'Accademia e del settantesimo stormo rappresentato qui dal comandante e di rispettivi appunto comandanti ai quali io anche in maniera virtuale mi rivolgo perché hanno ancora una volta saputo infondere quegli elementi di conoscenza che sono essenziali per la vostra crescita professionale e quei valori che da sempre hanno segnato e segneranno la storia dell'aeronautica militare. Un lavoro del quale io personalmente sono assolutamente fiero e di cui voi dovete essere orgogliosi. Avete operato anche in questo momento di grande difficoltà senza sosta, in silenzio, con la generosità e l'umiltà che vi hanno sempre contraddistinto per garantire la continuità dell'assolvimento dei compiti istituzionali. Quindi da parte mia un grazie di cuore a tutti voi che avete reso possibile il raggiungimento per questi ragazzi di questo importante traguardo. Prima di concludere desidero rivolgermi ancora una volta a voi ragazzi del 126esimo corso OPC con un auspicio che durante il percorso che da oggi voi intraprenderete con il nuovo grado e con la tanto desiderata Aquila possiate sempre essere all'altezza delle aspettative che l'aeronautica militare ripone nei vostri confronti. Ricordatevi che voi rappresentate il futuro della nostra Forza Armata. Quindi a voi tutti l'augurio di essere sempre di sempre più grandi soddisfazioni sia professionali che personali. Viva il 126esimo corso OPC, viva l'aeronautica militare. A ora luogo la consegna delle aquile di pilota d'aeroplano e dei gradi da sergente pilota di complemento ai dieci allievi piloti del 126esimo corso OPC che al termine dell'impegnativo addestramento presso la scuola di volo del settantesimo stormo di Latina hanno conseguito l'ambito brevetto di pilota d'aeroplano. Il comandante delle scuole dell'aeronautica militare terza regione aerea consegna all'aquila di pilota d'aeroplano e il grado di sergente pilota di complemento all'allievo Lorenzo Fantini, primo classificato al volo, nonché capocorso del 126esimo corso OPC. A ora luogo la consegna delle aquile e dei gradi di sergente pilota di complemento ai restanti allievi, neobrevettati del 126esimo corso OPC. Sono invitati a raggiungere il palco il generale di brigata aerea Paolo Tarantino, comandante dell'Accademia Aeronautica, il colonnello Michele Grassi, comandante del settantesimo stormo di Latina, il colonnello Stefano De Matteis, comandante dei corsi dell'Accademia Aeronautica. Ricevono l'aquila di pilota d'aeroplano e il grado di sergente pilota di complemento gli allievi Kevin Di Polito, Gabriele Fava, Riccardo Incelli. Viene ora consegnata all'aquila di pilota d'aeroplano e il grado di sergente pilota di complemento agli allievi Dario Marchese, Matteo Molteni, Lorenzo Rinaldi. Riccardo Rovazzani, Andrea Russo, Tommaso Tombari. Grazie. 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 Il comandante delle scuole dell'Aeronautica Militare Terza Regione Aerea lascia il luogo della cerimonia accompagnato dal comandante dell'Accademia Aeronautica. Grazie.